Vincere o essere vinto. Il Parlamento era diventato un grande cortile di legno dove ai fascisti piaceva sentirsi parlare. Così gli sembrò che la bandiera italiana poppa del peschereccio che lo portava in esilio in Francia cadesse oltre l'orizzonte. C'era una compagna con lui quel giorno che t'acqua per tutto il viaggio perché si sentiva umiliata. Era l'Italia. Sbarcò nella bruma marsigliese e da buon soldato si mise in marcia. Senza portare armi era lui stesso un'arma. A Parigi non vendette la sua lotta per un posticino tiepido d'esilio. Da lì suonò tante volte segnale d'attacco per gli interessi dell'Italia senza sbagliare una nota. Come religione ebbe la sua anima. Non aveva che se stesso per combattere ma anno dopo anno riuscì a strappare al destino il suo ritorno. Commento Le divisioni politiche, i partiti e le organizzazioni in genere, tutto ciò che separa, fa parte dell'esperienza incarnativa di chi ha ancora bisogno di combattere nella separatività e vincere o essere vinto. I maestri immateriali ripetono che le organizzazioni hanno un significato nella relatività di un gruppo di individui più o meno vasto che nell'ambito di una determinata epoca storica per proprie esigenze evolutive crea percepisce le organizzazioni e le esperienze che da esse scaturiscono. Le epoche storiche sono le creazioni percezioni di tutti gli individui che hanno bisogno di avere nel piano fisico quelle esperienze. Non è il singolo individuo che crea l'epoca storica in cui si incarna, ma sono tutti gli individui che con lui hanno sentire analoghi che creano, percepiscono, quell'epoca. Il grado di evoluzione che quell'individuo ha raggiunto, solo quell'epoca poteva creare e percepire, e solo di quelle esperienze e non di altre, aveva bisogno per la sua successiva evoluzione. Grazie a tutti.